Signore e signori, buonasera. Oggi, 19 di novembre del 2013, ci troviamo a Mezzo Lombardo, in provincia di Trento. Sottoscritto Alessandro Eligo ha la fortuna di intervistare Maurizio Micheli, che sicuramente voi tutti avrete già visto tante volte. Speriamo, io spero di sì. È un po' di anni che faccio questo mestiere, per cui spero proprio di sì. Per l'appunto, quando hai cominciato? Nel 1970, diciamo professionalmente. Prima avevo fatto delle esperienze col teatro universitario a Bari, dove abitavo, poi la scuola del piccolo teatro a Milano, poi dal 70 in poi, diciamo, la professione. Ecco, perché per l'appunto tu non sei originario di Bari, però sei cresciuto lì. Sì, esatto. Io sono livornese, però sono andato da bambino a Bari, lì ho fatto le medie, il liceo e parte dell'università. Ecco, fra l'altro, legato a Bari, c'è anche il primo personaggio di successo, aspetta, Nicola Di Nola? Di Mola. Beh, televisivo, diciamo, sì. È stato un personaggio, una macchietta, diciamo, che facevo con l'accento barese in un programma che si chiamava Tutto Gag. È andato in onda nell'80, quindi pensa quanti anni fa. Ed è il personaggio, diciamo, che mi ha fatto conoscere al grosso pubblico, anche se io lavoravo già da dieci anni, avevo già fatto cose televisive, molte cose teatrali. Ma il primo personaggio popolare che è arrivato un po' a tutto il paese è stato quello. Ecco, fra l'altro, quel programma vedeva la partecipazione di Massimo Boldi, di Sidney Rom. Fra l'altro, nella tua carriera, ci sono stati tantissimi contatti con attrici bellissime, da Laura Antonelli a Serena Grandi, Silva Coscina e via dicendo. Sì, è in teatro Sabrina Ferilli, che ho incontrato, con cui ho lavorato due volte, negli anni 90, in Un Paio d'Ali, una grande commedia musicale di Carina Giovannini, poi nel 2005 nella Presidentessa, con la regia di Proietti. E quest'anno ci rilavoro, perché facciamo una commedia francese, al mese di gennaio, e andiamo avanti, un testo che si chiama Signori, le patte de la maison. Il titolo francese era un altro, è tratto da un film che si chiamava Cena tra amici, film francese. Ecco, naturalmente, la mia speranza è che ci rincontreremo anche in quell'occasione. Perché no, per magari, volentieri. Sì, fra l'altro, Sabrina Ferilli è forse oggi una delle attrici più amate dal pubblico. Beh, direi di sì, è molto simpatica, è molto umana, stabilisce un rapporto col pubblico di grande empatia, insomma, è un'attrice popolare, nel senso migliore della parola. Ecco, questa sera sei qui a, stavo per dire a Trieste, perché l'ultima volta ci siamo incontrati a Trieste, per un lavoro di cui sei anche autore. Il titolo è Anche nelle migliori famiglie. Che cosa succede, secondo te, anche nelle migliori famiglie? Ma, l'espressione anche nelle migliori famiglie sottintende un capita, no? Si dice, capita anche nelle migliori famiglie. È la storia di un padre, anzi di due padri, due amici, che decidono di passare una serata insieme. Io sono quello più restio, l'altro, interpretato da Paolo Gattini, è invece più scatenato e vuole passare una serata per godersi la vita con due escort, due ragazze, diciamo, che per mestiere fanno le accompagnatrici. Qui nasce la prima sorpresa perché una delle due escort, diciamo, io la conosco. Non voglio dire adesso la storia, però la conosco bene e quindi nasce tutto un problema. Il secondo tempo è lo stesso problema, nasce col figlio del mio amico. Quindi è una storia di padri e di figli, una storia che potrebbe avvenire oggi tranquillamente nella quale il pubblico si riconosce perché è una storia drammatica, ma in cui la gente si riconosce perché non vorrebbe mai che gli capitasse. Ecco, c'è qualche evento particolare che ti ha fatto nascere l'idea oppure è capitata così? No, è capitata così. Siccome io credo che, insomma, studiare le reazioni del privato, cioè della gente, sia alla base di questo mestiere, è un'ipotesi. Se capitasse una cosa del genere, come ci comporteremmo? Ecco, io credo che mi comporterei come, appunto, affaccio nello spettacolo. C'è anche una satire della borghesia, del importante che non si sappia in giro, quella morale borghese che mette tutto a posto, cioè esiste il problema ma cerchiamo di non farlo sapere. Che poi è alla base di tante cose, anche di Pirandello, insomma, per citare un genio. È questo, cioè l'importante è che la gente non lo sappia. Poi avviene, avviene, sì, ma se la gente non lo sa è come se fosse avvenuto meno. Ecco, tu hai interpretato anche molti film divertenti, magari qualcuno può dire non troppo impegnati, però, diciamo, quelli classici di Jerry Calat, addirittura con Ezio Greggio. Intanto c'è ancora qualcosa all'orizzonte, questo filone per quanto ti riguarda. E poi, oggi soprattutto che la televisione è tempestata di notizie non tanto allegre, così forse proprio lì ci si può rifugiare per trovare un po' di distrazione. In quei film? Sì. Beh, quei film avevano, non tutti naturalmente, alcuni erano proprio semplici, diciamo, a volte anche un po' così, un po' volgari. Non voglio dire, ma insomma, quelli a cui ho partecipato io, alcuni di quelli erano anche abbastanza carini invece, perché un film che si chiama Rimini Rimini, che ancora va in onda tre, quattro volte l'anno, è un episodio che io ho scritto insieme a Marco Risi, insieme a Massimo Franciosa, grande sceneggiatore. È un episodio carino, un episodio raffinato, non era volgare, con l'Antonelli appunto, ed era la storia di un attore che deve cercare di far ridere una tavolata di macellai che non vogliono ridere, con l'Antonelli bellissima. Poi altri film che ho fatto, tipo Il Commissario Logatto, era un film, è vero, balneare, estivo, con Lino Banfi, però regia Dino Risi, quindi Mani di Fata con Steno, che era il papà dei Vanzina, che è stato un grande regista. Insomma, ho fatto dei film, diciamo, commerciali, però alcuni di questi avevano anche un po' di dignità, suoi professionali erano anche graziosi, insomma, ecco. Ecco, non per dire, Steno è stato regista anche di tanti film interpretati da Totò, quindi non era uno qualsiasi. Anche Alberto Sordi ha fatto Americano a Roma e quindi tanti altri film, sono un grande regista. Poi Corbucci, Sergio Corbucci era un bravissimo regista del cinema, ha fatto tanti film, io con lui ho fatto Sono un fenomeno paranormale con Alberto Sordi, insomma, ho Roba da Ricchi, che era un film divertente, anche quello balneare, con Villaggio, Lagrandi, e poi ho lavorato anche con altri, con Sergio Rubini, tre anni fa, un film con Proietti, in un film di Vanzina che si chiamava Un'estate al mare, due anni fa. Insomma, ci proviamo, ecco. Ecco, adesso quali sono i prossimi impegni? Ormai ci avviamo alla conclusione dell'intervista perché fra pochi minuti sarà in scena. Eh beh, te l'ho detto, quello con la Sabrina Ferilli che si chiama Signori, L'Epaté della Maison, il titolo francese è Cena tra amici, il titolo della commedia francese è Le Prenome, il nome, è un testo molto intelligente, molto carino, ecco, non è soltanto di evasione, è un testo anche con un po' di contenuti, insomma, ecco. Ma al di là della recitazione, quali sono le tue passioni nel tempo libero, ammesso che tu ne abbia? Il vino, la cena, andare a mangiare in posti giusti, andare al cinema, ovviamente a vedere i film, la lettura, leggere dei libri, delle cose, delle cose interessanti e che altro? Basta, una volta il tennis adesso non gioco più perché ho una certa età, le donne una volta adesso sempre meno, sempre per lo stesso motivo e basta, mi sembra sufficiente. E viaggiare è per te un piacere o una fatica, dato che l'attore di teatro deve viaggiare molto? Beh, è un po' una fatica, fai conto, oggi ho fatto 640 km da Roma e adesso tra 5 minuti faccio lo spettacolo, quindi io non sono un gran viaggiatore, proprio perché per lavoro, per diversi mesi l'anno, da 43 anni viaggio in Italia e Svizzera italiana, perché col teatro. comico è così, rideranno? Quando non rideranno? Boh, lo sapremo dopo 5-6 minuti. Questo spettacolo dove andrà ancora dopo di qua? Lo spettacolo è il secondo anno che lo faccio, dopo di qua andrà in tanti posti, vabbè in Piemonte, a Cuneo, vicino Bologna, a Varese, a Empoli, poi un mese a Roma per la seconda volta. Poi lo sospendiamo perché devo fare l'altro con la Ferigli e poi l'anno prossimo verrà ripreso. Bene, grazie, grazie naturalmente anche a voi per averci seguito, naturalmente non sarà facile avere a breve un altro nome così famoso, però noi siamo sempre qui in attesa di potervi regalare qualche momento piacevole. Grazie a tutti per l'ascolto. Grazie a voi. Arrivederci.